La persona è in grado, la sedentaria, il vostro recano, la sera, la sera, lo stimo, la scena, la scena, la scena, colpa Luteina, presenta, il vaso Alessandro, Giorgetto Mattia Marvisan Cristina Cristoro Emanuele Vignaga Marco Giulietti Graziana Graziani Nino Barvisan Antonio Cadavuto Melissa Daniela Giorgia Vidole Zarmunica Mauro Paola Varsone Pietro Pio Lovato 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 Mi scusi Prima di iniziare Dovrei farle dono di una cosa Sì Eh Se c'è Pio Lovato 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 Pio Lovato